ci sono arance melanzane e uova ci sono monete giocattoli e oggetti di uso comune come lo spazzolino da denti ma anche contenitori insospettabili tipo barattoli vuote bombolette spray strumenti interi o a pezzi come coltelli o manici d'ascia e articoli più compromettenti come i sex toys che tradiscono un tentativo di trasgressione finito male nella pancia di un paziente che arriva in pronto soccorso sembra potersi incastrare un po di tutto come dimostrano le radiografie più pazze raccolte dai radiologi in tutto il mondo e pubblicati su radiopedia.org una sorta di wikipedia degli specialisti dei raggi x